Giornata intensa e densa di impegni per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con tappe cruciali sia nella Molise che in Basilicata. Il suo doppio impegno sarà caratterizzato dalla firma di importanti accordi per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e le rispettive regioni. La giornata avrà inizio alle 11.30 a Campobasso, dove la Presidente Meloni parteciperà alla firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Molise. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso il potenziamento delle infrastrutture e lo sviluppo economico della Regione, fornendo un quadro strategico per affrontare le sfide future. Successivamente alle 16.00 la Meloni si recherà potenza per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Basilicata, che avrà luogo nell'Aula Quadrifoglio dell'Università degli Studi della Basilicata. Questo accordo sarà fondamentale per stimolare l'economia locale, promuovere l'occupazione e migliorare la qualità della vita dei cittadini lucani. L'impegno della Presidente del Consiglio in queste due Regioni sottolinea l'importanza attribuito dal Governo centrale allo sviluppo territoriale e alla coesione sociale.